...di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa. Avverto che con il consenso degli auditi, la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Do quindi il benvenuto al Presidente Onorevole Gioacchino Alfano e all'amministratore delegato, nonché direttore generale, Dottor Luca Andreoli. Dopo l'intervento del Dottor Andreoli darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni, cui il Dottor Andreoli potrà replicare. A tal proposito chiedo ai colleghi di far pervenire al Banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Do adesso la parola al Dottor Andreoli per il suo intervento. Prego. Buongiorno, signor Presidente, signori membri della Commissione. Intanto consentitemi di ringraziarvi per l'attenzione che avete inteso rivolgere alla società che rappresentiamo, in ordine al tema oggetto della vostra audizione. Per noi è sempre un'occasione preziosa da cogliere per poter descrivere le attività che Difesa dei Servizi mette in campo con l'obiettivo di valorizzare alcuni asset della difesa. Cercherò attraverso questa relazione di offrire un quadro più esaustivo possibile rispetto a quelle attività che afferiscono alla gestione degli asset affidati alla società dalle varie articolazioni del Dicastero. Intanto vorrei partire facendo un scendo al quadro normativo di riferimento. Sulla base del quale Difesa dei Servizi opera. Si tratta di una società in house totalmente partecipata dal Ministero della Difesa, costituita con la legge 23 dicembre 2009 numero 191, successivamente definita con l'articolo 535 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 numero 66. Tali disposizioni pongono la società sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, prevedendo nel contempo che essa operi secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministro, adottato di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze. In particolare, il citato articolo 535 delinea l'ambito di azione della società, consistente nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione e della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, da individuare a sua volta con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze. La società, quindi, in qualità di concessionario o affidatario, ha la gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate. Ed il Ministero, con le sue articolazioni, se ne avvale per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali, attraverso le risorse finanziarie derivanti proprio dalla citata gestione economica. Pertanto, scopo della società è quello di perseguire le attività e i programmi indicati attraverso un atto di indirizzo, al fine di consentire al Ministero della Difesa di realizzare forme di autofinanziamento derivanti dalla gestione economica dei propri beni, reperendo risorse aggiuntive al bilancio, risorse che, mi preme sottolinearlo, vengono acquisite dal mercato. Lo strumento della società in house, dunque, che sottolineo non gode di alcun finanziamento pubblico, consente di riparire risorse dal mercato diversamente non reperibili. L'atto di indirizzo a cui ho fatto cenno, emanato con decreto interministeriale Difesa MEF, attribuisce alla società l'obiettivo di rieperire queste risorse aggiuntive nell'ambito di una serie di aree di competenze. Tutte le attività esercitate da Difesa Servizi si avviano mediante la stipula di convenzioni con le Forze Armate, compresa l'Arma di Carabinieri, il Segretariato Generale, nonché alcune direzioni tecniche del Di Castero. Attraverso queste convenzioni, gli asset delle Forze Armate vengono affidati a Difesa Servizi per essere gestite economicamente. La convenzione stessa definisce inoltre tutte le altre condizioni relative ai beni affidati, durata, ritorni economici, modalità di esecuzione, eccetera. Una volta acquisito l'asset in portafoglio, la società provvede a porlo sul mercato, mediante le modalità previste dalla legislazione vigente, quindi codice dei contratti pubblici, per individuare un operatore economico nel quale viene stipulato un contratto attivo, quindi che acquisisce risorse. Le risorse così acquisite dalla società vengono trasferite alle Forze Armate attraverso le cosiddette retrocessioni, nell'ambito di una pianificazione e di una programmazione che il Capo di Stato Maggiore della Difesa predispone trimestralmente sulla base dei volumi finanziari che la società stessa comunica. Le risorse finanziarie generate da Difesa Servizi trovano possibilità di impiego dalla parte delle Forze Armate esclusivamente nell'acquisizione di beni e servizi individuati dal decreto interministriale Difesa MEF del 7 novembre 2023. Ogni tre anni viene rinnovato. Lo strumento amministrativo utilizzato è quello principalmente della delegazione di pagamento, ovvero in alternativa dell'acquisizione diretta di beni e servizi da parte della società. Quindi sostanzialmente o paghiamo fatture che ci presentano le Forze Armate o su indicazione delle Forze Armate noi acquistiamo beni e servizi. Sempre beni e servizi che rientrano in quel decreto MEF-Difesa, Difesa MEF, con cui vengono dettagliatamente elencati i beni e i servizi che possono essere acquistati. Signor Presidente, Difesa Servizi svolge l'attività di gestione economica degli asset della Difesa in modo articolato e differente in relazione alle finalità e caratteristiche del bene, materiale o immateriale, affidatole. Da premettere che la società cura esclusivamente la valorizzazione e la gestione economica di beni e servizi connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dicasterio, che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate. Per cui tutto ciò che è warlike non può essere, possono essere da Difesa Servizi. L'insieme delle attività di reperimento di risorse agentive è indicata dallo Statuto, che all'articolo 4 prevede analeticamente tutti gli asset che possono essere gestiti. E quindi li cito perché sono effettivamente tutte le attività che Difesa Servizi pone in essere. E si parte dalla valorizzazione e gestione economica, esclusa all'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali si è stato conferito apposito in carico, IVE incluse le valorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 355 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, che è il Codice dell'Ordinamento Militare, e il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari, di cui all'articolo 211, commi 2 e 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordo o convenzioni, nonché con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo a tal fine l'attivazione di politica di attrazione e di promozione degli investimenti. Quindi qui si parla di asset immobiliari, quindi valorizzazione e gestione economica di asset immobiliari, anche attraverso la valorizzazione cosiddetta ambientale, che altro non è che la valorizzazione energetica, per cui realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia alternativa. Sempre in questo ambito siamo titolati a supportare, tecnicamente e professionalmente, da un punto di vista amministrativo, sia il Ministero della Difesa, sia l'Agenzia del Demanio, nell'ipotesi di dismissione di immobili militari. Cioè diamo il supporto tecnico nella due diligence, piuttosto che nella realizzazione del cosiddetto fascicolo del fabbricato, quando ci troviamo ad operare per conto del Ministero della Difesa e dell'Agenzia del Demanio nell'ambito delle dismissioni immobiliari. Cioè non dismettiamo, ma diamo il supporto tecnico. Inoltre, operiamo nella promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi resi dal decastero a terzi, nei settori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, quello meteorologico, il geocartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni e accordi. E quindi noi gestiamo, per esempio, sempre a titolo di esempio, il servizio meteo per conto dell'aeronautica militare, è una gestione ovviamente di tipo economica sempre, gestiamo da un punto di vista economico le attività sanitarie svolte poste in essere dal celio, gestiamo da un punto di vista economico tutte le attività poste in essere dagli istituti cartografici, penso all'Istituto Geografico Militare di Firenze per l'esercito, penso all'Istituto di Genova per la Marina e via dicendo. Così come gestiamo, sempre per conto delle forze armate, le attività non war che vengono sviluppate all'interno dei poligoni. Penso per esempio al poligono di Capofrasca, laddove sostanzialmente vengono affidati anche nel settore spaziale a determinate aziende, aree dove vengono realizzati impianti per i test dei motori per i lanciatori. E ancora, gestiamo la promozione, la gestione economica e la fatturazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico e strumentale, anche connesse all'attività industriale e produttiva del Dicastero, per le quali si è stato conferito apposito incarico, da cedersi a titolo onoroso a soggetti pubblici o privati, nazionali ed esteri. Gestiamo economicamente le attività dell'UTAT, del CSSN, di Cima Ulla, cioè sono quei centri tecnici e tecnologiche che consentono sia alle forze armate italiane e straniere sia alle aziende del settore di effettuare test, di effettuare prove tecniche e dinamiche sulle attività da loro condotte. Economicamente le gestiamo insieme a loro. Ancora, promozione e gestione economica delle attività e dei servizi resi da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione e iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonché la registrazione di brevetti o altre forme di brevativa industriale, comunque denominati in attuazione di contratti o intese con terzi dal Ministero della Difesa o della stessa società. Si pensi, per esempio, noi insieme all'Aeronautica Militare è stato realizzato ormai due o tre anni fa l'IFTS a decimo manno, che è la scuola di volo per piloti e da un punto di vista economico viene gestito insieme all'Aeronautica attraverso difese e servizi. Quindi le attività che vengono rese da questa scuola in collaborazione con Leonardo vengono fatturate e vengono incamerate attraverso difese e servizi. Promuoviamo inoltre, deteniamo e gestiamo economicamente brevetti e ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale i marchi, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi delle forze armate, compresa l'arma dei carabinieri con possibilità della loro concessione in uso temporaneo e a terzo a titolo onerosi. Gestiamo tutti i brand delle forze armate. Quindi quando si vede una maglietta aeronautica militare, piuttosto che esercito o marina, i brand vengono affidati da noi tramite gara a dei licenziatari che dietro corrispettivo ne producono e diffondono sul mercato. Di diritto gestiamo tutti quelli delle forze armate. Abbiamo ricevuto mandato anche per gestire quello della Polizia di Stato, per i vigili del fuoco, per l'Agenzia delle Dogane. Abbiamo ampliato il settore di competenza oltre il mondo difesa. Promuoviamo e gestiamo economicamente l'immagine delle forze armate e delle realtà militari da realizzare direttamente o tramite Tarsi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radiodiffusione, della multimedialità e più in generale del sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, lettera G, della legge 3 maggio 2004, numero 112. In buona sostanza pubblichiamo le pubblicazioni militari. Quasi tutte le riviste militari sono edite da Difesa Servizi. Noi siamo a tutti gli effetti gli editori. Così come supportiamo le forze armate nelle attività di comunicazione e nella realizzazione degli eventi. Gestiamo economicamente le concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle forze armate per effettuare prove dimostrative in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, numero 808. Inoltre, promozione di servizi e attività destinate al personale militare e civile del di Castello, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza onere di spesa, con altri soggetti pubblici e privati. Parliamo delle convenzioni, il sistema di loyalty per favorire, diciamo, degli accordi di vantaggio a favore del personale militare. Con le sole risorse economiche, inoltre, risultanti dall'utile di esercizio, possiamo acquistare beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle forze armate, individuati con decreto del Ministro della Difesa, di concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'amministrazione. Cioè, fungiamo laddove richiesto dalle singole forze armate come stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi, sempre rientranti in quel novero di beni e servizi indicati dal decreto interministeriale difesa MEF. Siamo anche centrali di committenza, siamo centrali di committenza sia per il comparto sicurezza e difesa, sia di recente con legge del 2021, anche per centrali di committenza nazionale, quindi a tutti gli effetti rientrante fra le centrali di committenza nazionale, ed infine gestiamo economicamente forme di collaborazione e partenariato con l'esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societali con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle finità istituzionali e dell'immagine delle forze armate. Siamo sostanzialmente il soggetto che consente alle forze armate di contrattualizzare sponsor nell'ambito delle attività di comunicazione da loro posto in essere. Come detto, lo strumento principale attraverso il quale la società riceve dalle articolazioni del Dicastero gli asset da valorizzare è la Convenzione. La Convenzione a tutti gli effetti è il contratto fra noi e le diverse articolazioni del Ministero che viene adottata a vala di un'articolata procedura interna che vede coinvolti sia gli Stati Maggiori di Forza Armata, sia lo Stato Maggiore della Difesa, sia il Gabinetto del Ministro. La Convenzione è l'atto sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti. L'iter varia dai 3 ai 6 mesi a seconda della complessità dell'asset da gestire. Una volta acquisito lo strumento giuridico, la società può operare e si attiva per l'avvio delle procedure di valorizzazione che prevedono un'attività negoziale, diretta o tramite MEPA o Bando Pubblico con procedure di gare, che culmina con l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario. Signor Presidente, le attività finora condotte dalla società, dalla sua nascita, hanno consentito di generare risorse come risultanti dai bilanci approvati, quindi a tutto il 2022, pari a circa 395 milioni di euro, dei quali 328,5 come valore della produzione e 66 milioni di euro derivanti dall'attività di servizio di tesoreria. Di queste risorse, circa 280 sono stati destinate alle forze armate, con le retrocessioni, che hanno concesso gli asset da valorizzare, 10 sono stati versati come imposte e tribute e oltre 22 sono risultati utili societari. Le voci che maggiormente contribuiscono al bilancio riguardano la formazione e l'addestramento anche in favore di forze armate straniere, la promozione dei marchi, le attività spaziali e aerospaziali, le certificazioni e le omologazioni, la gestione degli asset immobiliari, nonché la gestione di asset sportivi e culturali, nonché la tesoreria. L'andamento della gestione è sempre stato in crescita, nel 2011 il valore della produzione è stato di 1 milione di euro, 2011 è l'anno di nascita operativa, nel 22 il valore della produzione è stato di circa 76 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 14 milioni di euro di tesoreria. Le somme rese disponibili e programmate per l'impiego da parte della Difesa dal 2011 sono state, per lo Stato Maggiore Esercito, circa 70 milioni di euro, per lo Stato Maggiore della Marina 105 milioni di euro, per lo Stato Maggiore dell'Aeronautica oltre 70 milioni di euro, per il Comando Generale Carabinieri oltre 4 milioni di euro, per il Segretariato Generale della Difesa 14 milioni di euro, per lo Stato Maggiore della Difesa 17 milioni di euro. Queste dotazioni sono il risultato effettivamente della produzione, se stiamo all'oggetto dell'audizione e a tutti gli effetti vanno considerate come la produzione di beni e servizi, la dotazione finanziaria è quello che Difesa e Servizi mette a disposizione delle forze armate. Queste risorse, così come le ho citate, le articolazioni del Dicasterio le hanno utilizzate prevalentemente per la manutenzione ordinaria di immobili, per l'acquisto di accessori per ufficio, alloggi e menze, per la manutenzione di beni mobili e per l'assistenza sanitaria. Signor Presidente, onorevoli, in conclusione di questa mia relazione, gli asset che la Difesa può valorizzare attraverso i servizi sono innumerevoli, tali da configurare l'azienda come una vera e propria multiservizi della Difesa. Infatti, in questi primi 12 anni la società è stata capace di consolidare il suo ruolo di strumento operativo gestionale a vantaggio delle forze armate che nel tempo, a loro volta, le hanno riconosciuto una crescente funzione strategica ed unica. Guardando avanti a noi, le prospettive continuano ad essere molto interessanti. Anche il corrente esercizio finanziario si preannunza in crescita rispetto al precedente. Valore alla produzione di oltre 80 milioni di euro con una tesoreria che va oltre i 17 milioni di euro per un totale di valore generato di circa 98 milioni di euro e certamente consentiranno alla società di costituire un prezioso volano di risorse aggiuntive per usare un'espressione cara al legislatore rispetto a quelle iscritte nello Stato di previsione del Dicastero che le forze armate potranno impiegare per propria necessità integrando le dotazioni e i mezzi messi a disposizione dal bilancio pubblico. Onorevole Presidente, nel ringraziare la Commissione per l'audizione rimango a disposizione per eventuali integrazioni e approfondimento che si ritengano utili. Grazie. Grazie a lei, Dottor Andreoli, per la sua relazione. Chiedo ai colleghi se intendano intervenire. Onorevole Graziano, prego. Ma innanzitutto grazie Presidente, scusatemi per la voce, ma purtroppo si è abbassata completamente la voce e la voce ormai questa influenza che gira è pesante. Detto ciò, mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma ho seguito diciamo questa parte della relazione abbastanza puntuale della D e ringrazio anche il Presidente con cui diciamo abbiamo un lungo rapporto di amicizia e di stima soprattutto perché è stato un collega parlamentare, quindi io penso che sia stato molto utile difesa servizi nel complesso di dal 2011 ad oggi. Mi chiedevo rispetto alle evoluzioni che di fatti ci sono e rispetto al DPPP che si sta realizzando quali sono le prospettive che può avere e come noi possiamo dare una mano dal punto di vista legislativo perché si rafforzi il ruolo di semplificazione perché di fatti difesa servizi nasce nella logica di semplificare quello che dentro il mondo della difesa era una roba difficile e molto burocratica spesso da gestire. Quindi come si può ancora di più semplificare come si può dare una mano noi come commissioni difesa come parlamentari dal punto di vista legislativo anche perché è vero che siamo in procinto della finanziaria ma purtroppo la finanziaria quest'anno arriva dal Senato quindi gli emendamenti già sono chiusi dalle forze politiche ci possono essere soltanto quelli di governo e quelli delle relature però probabilmente potrebbe essere utile per un eventuale veicolo successivo Presidente perché noi potremmo se voi ci date diciamo degli elementi positivi provare nei prossimi veicoli legislativi a dare una mano per far sì che si semplifichi quei processi che molto spesso invece sono pesanti sono molto cioè noi abbiamo visto nell'audizione che abbiamo fatto di Raymetal piuttosto che di Leonardo piuttosto che di altri che sostanzialmente solo per la firma di un contratto che già è stato definito che già è stato apposto economicamente in realtà passa oltre un anno no? cioè noi abbiamo detto scusate come è possibile che per firmare un contratto ci vuole oltre un anno per diciamo dopo i tre anni precedenti per aver appostato i soldi aver fatto il programma realizzato diciamo le condizioni per le quali tutto è apposto ecco come si può per dirle una parola sburocratizzare di più quello che è un sistema che spesso è molto burocratizzato grazie qualche altro collega intende intervenire? no? e allora do la parola al dottore Andreoli per poter rispondere grazie onorevole per la domanda perché effettivamente è una domanda sfidante è uno dei temi con i quali ci confrontiamo sistematicamente in effetti Difesa e Servizi è nata proprio per rendere diciamo i processi all'interno del mondo difesa più fluidi e questo effettivamente è un risultato che sicuramente è stato raggiunto se diciamo dovessi pensare a quali settori in particolare necessitano di un intervento legislativo fra tutte le materie che tutte le tematiche che noi affrontiamo sicuramente quello immobiliare è quello più diciamo più impattante ovviamente le norme che attengono alla valorizzazione immobiliare quindi che hanno a che fare con l'urbanistica non sono norme specifiche del mondo difesa ma ovviamente impattano anche nelle valorizzazioni immobiliari militari non fosse altro perché gli immobili militari non avendo destinazione urbanistica necessariamente debbono debbono passare dalle attività svolte dagli enti locali per poter assegnare a ciascuno di essi una destinazione urbanistica che gli consente di essere messa sul mercato per cui siamo consapevoli che non si può fare una deroga a quelli che sono i piani urbanistici ma con un attento ragionamento può anche immaginarsi di prevedere dei percorsi o delle soluzioni che consentano di adottare questi strumenti in maniera più più rapida più fluida più aderente anche al territorio perché effettivamente l'asset immobiliare militare è un asset immobiliare gigantesco cioè parliamo fondamentalmente di quasi tutti gli immobili pubblici sono quasi tutti immobili militari sia che siano ancora sostanzialmente nella disponibilità del mondo militare sia che siano già stati trasferiti all'agenzia del demani o riconsegnati le stesse diciamo peculiarità le stesse difficoltà le trovano le troviamo sia noi nella gestione dell'immobiliare ma anche l'agenzia del demanio perché effettivamente gli immobili militari non hanno una destinazione urbanistica per cui sicuramente uno di queste un'attenzione particolare la rivolgerei a questo a questo ambito e per certi versi conseguentemente anche ad un altro ambito che in qualche modo è ricollegato che è quello della valorizzazione energetica gli asset militari hanno la diciamo intrinsecamente la capacità di essere fortissimamente attrattivi per la generazione di energia da fonti alternative perché sono immobili percepiti e anche realisticamente come sicuri e pertanto gli operatori economici sono fortissimamente attratti per realizzarvi degli impianti e quindi da questo punto di vista c'è la possibilità di mettere in campo un patrimonio che potrebbe e anzi sicuramente può consentire alla difesa in primis ma al paese a seguire di rendersi autonoma o parzialmente autonoma da un punto di vista energetico in questo senso già è stata adottata una normativa da parte del ministero importante ma sicuramente anche qui il tema e l'aspetto autorizzazioni è un tema che è ricorrente quindi questi sono secondo me gli aspetti che maggiormente possono impattare sulle attività di difesa servizi nell'ambito delle materie che sviluppiamo all'interno devo dire che all'interno delle articolazioni della difesa per quello che ci riguarda le iniziative poste in essere fino ad oggi consentono di fluidificare in maniera importante il resto sono le articolazioni della difesa su cui noi ovviamente non entriamo però diciamo che una volta che vengono attivate le diverse iniziative è abbastanza rapido da parte nostra il processo attuativo grazie grazie se non ci sono altre richieste io ringrazio ancora i nostri ospiti i colleghi intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione informale grazie a tutti grazie a tutti Grazie.